Allora Marta, voglio proporti un esperimento di percezione extrasensoriale. Per fare questo esperimento abbiamo qui delle carte e sono due mazzetti di carte uguali. Se vuoi prendere anche il tuo, guardiamo, c'è un cerchio, c'è una croce, delle onde, ecco, un quadrato e una stella. Perfetto, adesso il mio mazzetto dietro è bianco, poi così siamo sicuri che non c'è nessun segno, eccetera, le tue armi e dorso nelle carte normali. Quello che ti chiederai adesso è di andare a mescolare, quindi mescolo pure le carte, insomma così, ti fermi quando pensi di essere a posto, benissimo. Adesso io vado a stendere qui sotto il pettino le carte che ho io, ok? Quindi mettiamo qui, ovviamente abbiamo, ho mescolato, né io né tu sappiamo che l'ottima c'è. Benissimo, e adesso anche tu hai mescolato e ti chiedo per favore di mettere le tue carte una volta faccia in su sopra le carte che ho disteso io sul tappetino. Benissimo, quindi, ok, tu hai avuto una sorta di percezione, hai sentito qualcosa quando hai messo un brivido, hai sentito una sorta di brivido, perfetto. Ad esempio, guarda, io adesso sento qui, io vedo qua che c'è una stella, la stella, insomma, ci ricorda l'universo, no? Quasi come l'infinito, così come l'infinito è l'ondeggiare del mare, e l'ondeggiare del mare, ci ha ricordato da questo, da queste onde qui. Quindi queste, sì, io sento queste carte qui e metto un attimo qui. Ti chiedi di tenere la mano sopra che non, insomma, non vengono ulteriormente toccate. Poi, sempre parlando di infinito, beh, anche un cerchio, è anche un cerchio, è, come dire, in qualche modo, diciamo, se noi pensiamo di metterci su un punto e andare attorno, è sempre, sempre in questo, diciamo, un movimento infinito. Poi vediamo un po', ah, abbiamo anche una croce. La croce, diciamo, ha altri significati magici, però, insomma, ricorda anche un po' una stella, ecco, un po' più, e poi, alla fine, abbiamo il quadrato. Il quadrato si lega all'infinito del cerchio, è la cosiddetta quadratura del cerchio, ecco. Vado ad aggiungere queste carte, le tue, perfetto. Quindi adesso, io ho mescolato le carte, tu hai mescolato le carte, in qualche modo, le hai messe, disposte, in un certo modo, avrai avuto qualche percezione, immagino. Certo. Certo. Allora, proviamo a far così. Sì, adesso prendi un po' il mazzetto, e allora, quelle bianche sono le mie, sono a faccia in giù. Ti chiedo per favore di mettere una mia carta a faccia in su e vedere se corrisponde alla tua, che vede a faccia in giù. E vediamo il cerchio. Vediamo la prossima. Abbiamo un quadrato, poi abbiamo una croce, una stella, e infine, beh, devo dire che la percezione ha funzionato proprio bene. Yeah! Grazie. 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 Grazie.